Il ciuffo è ancora quello dei bei tempi, la battuta sempre pronta con l'inconfondibile accento romanesco anche. 40 anni di interviste, a quale domanda si è stancato di rispondere? Alla prossima. Adriano Panatta chiude oggi la sua due giorni alla Nino Bixio, dove va in scena il Master in Assi Italia, dove è ovviamente la star indiscussa. Adriano lo vedo abbastanza bene, le donne sono brave, hanno avuto grandi risultati. Fognini è uno che sta nei primi 15 del mondo, adesso non è che si possa pretendere che ci sia nei primi due o tre. Lui avrebbe le qualità tecniche per entrare nei primi 10 secondo me, gli manca qualcosina a livello caratteriale. Campione fuori dagli schemi che ha raccolto probabilmente meno di quanto il suo braccio gli avrebbe potuto consentire. Perché resiste da così tanto il mito di Panatta? Non lo so perché, perché sono tanti anni, poi mi sono occupato di tante cose, ma non lo so, è questa la domanda che io odio, non me la faccio più.